Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Un noto uomo dello spettacolo ha confessato un triste retroscena che riguarda Ornella Muti di cui in molti non sono a conoscenza tutt'oggi Il famoso imprenditore ha avuto anni duri recentemente ma il suo passato è costellato di successi internazionali ed incredibili Una vita dedicata al lavoro che ha dato veramente frutti quasi irraggiungibili Oltre ad una carriera stellata e nel mondo dello show business internazionale ha avuto amori celebri che hanno tenuto banco sulle copertine dei giornali per molto tempo Due donne amatissime dagli italiani sono state al suo fianco molti anni Di recente però proprio lui ha parlato di un'altra donna e ha fatto una confessione che nessuno si sarebbe di certo aspettato di sentire Si tratta di qualcosa che riguarda la stupenda Ornella Muti. Di chi si tratta e cosa ha rivelato? Il noto imprenditore e il retroscena su Ornella Muti. Di questo uomo così brillante possiamo dirvi che è stato al fianco di star internazionali di calibro di Fellini e Gasman ma anche Tornatore e Bill Gates La sua carriera lo ha portato oltre oceano e in America ha creato un altro cospicuo impero Produttore di oltre 90 film all'anno nei momenti d'oro e imprenditore all'interno di oltre 40 società differenti ha però avuto un butto colpo dal resto Nel giro di poco tempo è stato sommerso da svariate vicende giudiziarie che lo hanno costretto ad una vita completamente differente Durante la sua vita ha avuto al suo fianco due note ed apprezzate donne dello spettacolo italiano Con la prima è stato sposato per molti anni ed ha creato una famiglia insieme ai due figli avuti da lei La storia è finita molto male ma sembra che ora i rapporti siano buoni La seconda scintillante e storica compagna di vita è una nota subretta italiana che tutti amiamo e che è stata accanto all'uomo anche nel suo momento più buio e durante i guai legali Ha rilasciato però una recente intervista nella quale ha parlato dell'amore per Ornella Mutti ed ha stupito tutti i fan Di chi si tratta? Ecco chi è e cosa ha detto rivelato sull'attrice Il noto imprenditore e produttore di cui stiamo parlando è Vittorio Cecchigori È stato sposato con Rita Rusic dalla quale ha avuto due figli e poi compagno di Valeria Marini Durante un'intervista dedicata ai suoi 80 anni rilasciata a Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena alquanto inedito su Ornella Mutti Ha svelato riguardo all'amatissima Ornella Mutti, mi piaceva tanto Mamma disse, ho capito che vuoi sposare un'attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina ed ha concluso, ma ci lasciamo, fu una delusione, avrei voluto che finisse in un'altra maniera Un pensiero davvero significativi per una strepitosa stella italiana Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao ci vediamo nei prossimi video